Ma vediamo adesso questo pazzo, questo rimbombato, che prepara la bistecca dentro il microonde. Gli ha messo una bistecchina dentro il tegamino e adesso gli dà massima potenza. Diciamo che gli sta preparando la sucena ai microonde. Ma vediamo che porcaio, che trogolaio, sta facendo questo americano. Sicuramente un americano, non l'ho visto, ma sicuramente non è un americano. Vediamo un pochino, via! Sono curioso di vedere questa bistecchina ai sangue. Qui non c'è il problema di dire che la bistecchina ai sangue è cottura media. Qui la vien' lessa, la vien' stracotta, cotta e ricotta. No, non ci ritro, non ci ritro. Guarda che porcaio. Con cos'è queste pinzettine rimbombate. Speriamo che le si sciolghe in sopra, di plastica, che tu fai? Cos'è questa più che bistecca ai sangue, che è bistecca bollita, lessata e via. Ma che porcaio ragazzi, ma che porcaio, ma che si può potervare a fare un trogolaio di genere. Ma che si pole, un si pole, un si pole. cos'è questa se tu la batti nel muro o su di rimbalzano le palline che le mettiano le patatine le patatine di plastica picciose che tu le batti nel muro poi tu le ripigli su di celerce e tu le infili nel sacchetto delle patatine e poi le rimangi via giù che fa ah controlla la cottura per vedere se è pronta vedere se fosse pronta la rigira per benino tutta l'acqua in Italia fa tutti i brodos perché si può mangiare bollicoli del saco ma nemmeno nemmeno la taglia anche anche il coraggio di tagliarla di dire che è buona difatti gli ha fatto anche i tutorial per metterlo su youtube per farlo vedere alla gente dice almeno voglio rifare a casa ma va a far culo vai a rischio